Cosa è questa? Oh ragazzo ha scritto! Dammi la borsa! Vieni! 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 The G's with the 40's and the G's with beepers The Northern Lights and the Southern Comfort And those fanatoms and veins appultured All the crackheads, the critics, the cynics And all my heroes at the methadone clinic Vediamo cosa c'è dentro Ma dove stai andando? A casa, dammi la pistola Ma tu stai zì Dai, spalmi Oh, dov'è la mia borsa? Senti, non lo so, me l'hanno fottuto No! Stai tranquillo, stai tranquillo Ti perdono solamente i miei iuti a trovare la borsa Ok, dai, andiamo Andiamo Dov'è che te l'hanno rubata? Me l'hanno rubata di sotto, è contanzia motorina Quel bastardo Qui non c'è nessuno Eccolo Andiamo 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 Andiamo